Hai mai visto nascere una nuvola? Oggi la creiamo insieme in un barattolo un esperimento facile e spettacolare per capire cosa succede nel cielo I materiali necessari sono un barattolo, un piattino, del ghiaccio, acqua molto calda e lacca spray Una volta preparato tutto il necessario, versiamo circa 2-3 dita di acqua nel barattolo Copriamo l'apertura con il piattino su cui avremo precedentemente poggiato il ghiaccio e infine spruzziamo un po' di lacca dentro il barattolo Richiudiamo subito e guardate cosa succede L'acqua calda produce vapore che sale verso l'alto L'aria fredda, presente a causa del piattino ricoperto di ghiaccio, condensa il vapore in goccioline che formano una nuvola Si è formata una nuvola vera dentro il barattolo proprio come avviene nel cielo, quando il vapore è acqua e incontra l'aria fredda Quando poi le goccioline di condensa diventano grosse e pesanti, cadono giù sotto forma di pioggia Vi lascio osservare con i vostri occhi Nel frattempo, perché la lacca ci ha aiutato nell'esperimento? Perché le particelle dello spray aiutano il vapore a trasformarsi in una nuvola in quanto fungono da superficie condensante per l'acqua Più la nuvola sale verso la parte alta del barattolo, più si raffredda e si condensa Guardate in questa zona Si sono già formate gocce di pioggia! Ti è piaciuto l'esperimento? Provalo anche tu con l'aiuto di un adulto E se vuoi altri esperimenti come questo, iscriviti al canale e attiva la campanella Ciao, alla prossima!